Siamo ancora una volta qua dalle poltroncine del palaestra, questa volta a sentire le parole del coach, siamo qua sempre per il programma dietro la maglia, forse usato questa volta in maniera impropria perché sarebbe forse più corretto un dietro la lavagnetta, però impropria fino a un certo punto perché il coach ha un grande passato da giocatore di cui avremo la possibilità di parlare. Innanzitutto ben trovato coach. Sì, grazie, dietro la lavagnetta suona un po' come in castigo, ma dietro la giacca, dentro la giacca va bene. Ok, perché non ti vogliamo mettere in castigo, anche perché fino a questo momento la tua squadra ci ha fatto vedere delle ottime cose sul parquet. Nella nostra chiacchierata partiamo da quest'estate, ovviamente ti chiedo come è maturata in te l'idea di tornare per la quarta volta a Siena? Beh, intanto come una proposta, come appunto un'idea, l'idea da parte del club di aver individuato in me, la figura, diciamo così, dell'identikit che avevano in mente per iniziare questo progetto. Poi con una chiacchierata, una chiacchierata fatta prima con Lorenzo e poi con la proprietà e di lì sono nati dentro di me tutte quante le idee, i sogni, i progetti, le cose che poi arrivano in testa di un uomo, di una persona quando inizia un percorso, può iniziare un percorso e quindi ecco è nato un po' così. Il fascino di tornare a Siena e di farlo in un ruolo così importante mi ha subito molto preso e quindi insomma tutto il resto poi è storia di oggi. Sei Aretino di nascita, ma si può dire un po' senese di adozione per via dei suoi trascorsi. Cosa rappresenta per te la città di Siena dove fra le altre cose hai anche trovato fra i banchi del Sarrocchi la compagna della tua vita? Sì, io sono Aretino e arrivo a Siena oramai nell'84, tantissimi anni fa e è lì che nasce dentro di me il seme della senesità nel senso che quando tu sei giovane e frequenti i ragazzi della tua età, la città non solo il campo della menzana, insomma tutto quanto ti entra dentro e quindi è lì che nasce il mio grande affetto, oserei dire amore per questa città che mi porto dentro da allora. Mariolina è tuttora la donna della mia vita e la madre dei miei figli e quindi oltre a tutto quello che mi ha portato alla menzana e la storia cestistica di un ragazzo che muove i primi passi su un parquet importante come questo all'età di 14 anni, poi c'è anche appunto la vita privata e quindi gli affetti, il fatto di avere ancora oggi non solo, ripeto, questo lato della mia vita così importante ma anche una serie di amici, di persone che avevo, che non ho perso e che in alcuni casi ho anche ritrovato qua in questo periodo. Ecco per l'appunto l'hai già accennato, però torniamo ai tuoi inizi da giocatore quando poco più che 14enne, appunto nell'84 arrivasti alla menzana grazie al lavoro di scouting di Luca Finetti. Sì, le due figure più importanti in quel periodo furono appunto Luca Finetti e Giorgio Cocchia. Giorgio Cocchia è papà di tre fratelli, di amici e giocatori a vari livelli. In quegli anni giocavano tutti e tre e lui era vicepresidente appunto della menzana, operativo, aveva cuore le vicende del settore giovanile e era praticamente il braccio armato di Luca Finetti che in quel periodo era appunto il Deus Machina, l'allenatore e non solo di tutto del settore giovanile degli anni 80 della menzana. Mi vide, già ci conoscevamo perché io in quegli anni giocando ad Arezzo insomma le partite tra le squadre di Arezzo e appunto della menzana erano frequenti, ci trovavamo verso fine percorso nei campionati regionali e quindi insomma non fu difficile iniziare un discorso che poi fu portato a termine appunto da Giorgio Cocchia con la mia famiglia. Ecco forse il primo allenatore a darti fiducia fra i grandi fu il prof Ezio Cardaioli in quella stagione di Serie B 1986-87. Adesso che sei allenatore cosa hai preso se qualcosa hai preso da una figura che qua a Siena è considerata quasi mitologica? Sì, quella stagione che hai detto tu, io facevo parte della prima squadra ma ai margini ero ancora giovane e venivo utilizzato come appunto sparring durante gli allenamenti, mi ricordo pochissime apparizioni in campo. Fu la stagione successiva che è importante per me e nella quale appunto il coach mi dette spazio, fiducia e io ripagai ampiamente con una stagione estremamente positiva. Ma Ezio al di là delle sue grandissime capacità tecniche è un innovatore all'epoca, oggi non si usano più tutte quelle situazioni tattiche che lui amava mettere in campo anche se noi per esempio in campo mettiamo spesso una zona adattata che lui amava fare o comunque amava adeguare agli avversari che a volte ogni domenica trovavamo in campo. Io di lui ricordo tantissimo la grande professionalità in campo, io ero un ragazzo che veniva dal gioco, dal divertimento e con lui avere un maestro così che irruppe nelle mie abitudini, nel mio modo di pensare e di agire con grande fermezza anche a volte per inculcarmi, insegnarmi come si sta all'interno di un ambiente professionistico, insomma questo fu secondo me un bel modo per iniziare la mia carriera e un bel esempio per instradarmi nella strada giusta. Sei stato da adolescente, da ragazzo, un grande prospetto, probabilmente il miglior 1970 in Italia o giù di lì, cosa serve per sviluppare dei giovani giocatori, delle giovani persone? Allora noi eravamo, cioè l'ambiente in cui io fui inserito era un ambiente estremamente positivo, forse era più facile allora perché c'era più coinvolgimento, la famiglia Cocchia ma anche altre famiglie importanti di quel periodo della mia vita che mi avevano adottato come un figlio e l'ambiente era molto familiare, non era dispersivo, questa è stata per quattro anni la mia casa, nel senso che non ci dormivo ma arrivavo alle tre e andavo via alle dieci in certe giornate perché c'era da fare i pesi, c'era da stare al bar, c'era da studiare, c'era da fare basket con i grandi, basket con i piccoli, quindi era facile crescere i ragazzi e trasmettergli i messaggi positivi. Io credo che oggi è un pochino più complicato perché c'è grande dispersione, perché gli agenti che influiscono in maniera negativa sui ragazzi, sui giovani di oggi sono molto grandi e sono molto forti e soprattutto c'è un altro aspetto, oggi i ragazzi hanno il mondo in mano e quindi trovare motivazione e motivare questi ragazzi non è così facile, ci vuole un fuoco dentro che una volta era più comune avere, oggi è molto più complicato. Facciamo un salto temporale e arriviamo agli anni Virtusini, la Virtus Bologna dove probabilmente hai raggiunto la tua maturità da un punto di vista cestistico, sono arrivati i tre scudetti, le Coppe Italia, le Supercoppe, le molteplici presenze in nazionale, 80 se leggo bene nei siti, ecco cosa ricordi di quel periodo? Intanto giustamente tu avrai colto alcune fasi salienti di tutto questo percorso, il trasferimento da Siena a Verona, il mio quadriennio a Verona che quindi è precedente a questo periodo che dici tu, è stato molto importante per la mia formazione, intanto è stato importante anche per le casse della Mezzana perché ha contribuito non poco per tornare a fare il salto di qualità che poi fu fatto in campo da Dado Lombardi e dai presidenti e dai giocatori di allora. Io a Verona ho fatto un periodo di due anni molto difficile, molto complicato i primi due, per poi sfociare in due stagioni le ultime straordinarie, sia a livello di risultati di squadra che a livello personale e poi appunto grazie a questi arrivò la chiamata della Virtus Bologna e il mio quadriennio a Bologna è stato in assoluto il quadriennio più importante della mia carriera da giocatore, ho fatto prima il role player, quindi il giocatore dietro a grandissimi campioni come Danilovic, come Brunamonti, come Morandotti, come lo stesso col De Bella. Per poi dopo, per meriti, grazie anche al fatto che Alberto Bucci in quegli anni credeva molto in me, credeva molto nelle mie possibilità, sono arrivato in quintetto e sono rimasto per un paio d'anni all'interno di un sistema oramai di livello europeo e come giocatore importante. Poi infortuni e altre cose, però ecco quello è stato in assoluto il periodo più bello, più importante, più ricco di soddisfazioni sia di squadra che personale. Hai nominato il coach Alberto Bucci, una figura professionale che hai avuto modo di incrociare nella tua squadra, nella tua storia di giocatore, un altro grande tecnico oltre che anche gestore di uomini e di situazioni. In cosa ti ha ispirato nella tua successiva carriera di allenatore? Lui è un grande motivatore, la cosa che più ricordo di lui è che aveva la grandissima capacità di entrare all'interno dello spogliatoio e trasformare 12 giocatori in 12 guerrieri, 12 erleoni che sarebbero di lì a poco entrati nell'arena a fare di tutto per strappare il risultato. Aveva un uomo molto intelligente, un uomo molto colto e quindi tutto questo lo portava a trovare prima o poi o più o meno sempre la chiave giusta per entrare dentro il cuore e la testa dei giocatori. E poi il giorno del terribile infortunio, la rottura del tendine d'Achille in gara 2 di finale Scudetto contro la Benetton nel 1995. All'apice del mio momento, mi ricordo anche quella è una partita in cui stavo giocando benissimo, avevo segnato molto, in cui stavamo dominando la gara chiave di una Serie 5, appunto la seconda in casa di Treviso e quindi fu un colpo enorme. Primo ovviamente alla mia carriera, poi alla mia testa. I più informati dicono che quello è stato probabilmente il momento che mi ha fatto fare più di un passo indietro a livello di importanza di carriera. Io credo che a livello mentale non mi debilitò più di tanto, però già io ero un giocatore che non aveva qualità e caratteristiche fisiche clamorose. Il fatto di subire un infortunio così grave probabilmente mi tolse ancora quel poco di brillantezza che avevo nei piedi e nei polpacci. Facendo un ulteriore salto, quindi saltando le parentesi al Peristeri, al Fortitudo, arriviamo al tuo ritorno a Siena. A metà della stagione 1998-99, un'annata per molti versi altalenanti con l'avvicinamento in panchina fra Dalmonte e Dodo Rusconi, una squadra che aveva Midleton, aveva Maia, Minto, Alberti, arrivarono al play-off per il rotto della cuffia e i quarti di finale di Coppa Courage. Sì, io arrivai a metà stagione, arrivai a metà stagione dopo che non rientravo più in un progetto triennale della Fortitudo che stava cercando di crescere e di diventare una squadra di livello internazionale. Arrivai in un momento molto delicato, noi eravamo ultimi in classifica quando arrivai a Siena e avevamo alle porte niente di meno che lo scontro diretto proprio con la penultima che in quel momento era Verona. Ricordo un episodio abbastanza curioso perché io arrivai il martedì accompagnato da Jacopo Menghetti, entrai in spogliatoio e il clima all'interno dello spogliatoio era veramente, veramente ombroso, a dir poco truce. Poi capì perché, perché di lì a poco prima dell'allenamento pomeridiano i tifosi più vicini alla squadra avevano chiesto un incontro appunto con la squadra per manifestare il malcontento del pubblico e io ricordo che insomma il mio primo momento a Siena in quell'annata in quella squadra fu abbastanza di impatto. Poi giusto per raccontare un episodio curioso e carino. Poi niente, poi quella partita fu vinta, hai ragione che la stagione fu abbastanza altalenante, avevamo una squadra talentuosa ma con una chimica non eccezionale, tanti stranieri provavano ad aggiustarla, Minucci e il coach provarono ad aggiustarla con l'inserimento mio e di Dell'Agnello. Però non fu una stagione che finì secondo le aspettative, anche se poi alla fine i correttivi ci portarono da essere l'ultima squadra in campionato a fare i play-off che comunque, ripeto, non furono play-off particolarmente vissuti in maniera da protagonisti perché ce li mino a Roma se non mi sbaglio, però riuscimmo a vincere la partita in casa insomma fu comunque un fine di stagione non clamoroso ma più positivo di quello che non fu l'inizio. E niente, la Corace è stata una parentesi molto buona, molto positiva, la squadra che giocava in Corace non era quella che giocava in campionato perché poi tutti questi avvicendamenti non consentirono di inserire i giocatori che potevano giocare per il campionato anche in Coppa. Quindi fu bello finché durò e anzi dette grandissime motivazioni alla squadra e agli stranieri in quel momento. Poi è ovvio quando poi a marzo, mi ricordo, verso la fine del campionato ci fu la delusione dell'uscita dal punto della Coppa, un po' di frizzantezza si perse, però è comunque per me è stato un episodio e una parentesi positivo. Portai il figlio, mio figlio grande Davide praticamente a fare il suo primo compleanno proprio qua a Siena, quindi insomma ho dei bei ricordi di quella storia.